Non posso credere che questo giorno sia finalmente arrivato! Oh budino, baciami! Ehi tu, sbrigati e fai le tue cose! Siamo tutti riuniti qui oggi per... Non puoi andare più veloce! Ardi, mi sposerai! Sì, assolutamente! Insieme per sempre! Cici, wow! Ardi! Pranker! Vi amo! Oh no, di nuovo quella pazza fangirl! Oh, bello! Vi amo entrambi comunque! Allora, chi è pronto per il lancio del bouquet? Oh, io, io! Tiralo qui, Ardi! Ah ah, l'ho preso! Va bene, ascoltami! D'ora in poi tu appartieni a me! Capito? Io, sì, padrona! Ora cosa abbiamo qui? Pranker? Non ho più bisogno di questo! Andiamocene di qui, tesoro! Ma, ma, com'è potuto succedere? Mi ha lasciata il giorno del nostro matrimonio! Sento qualcosa di strano nel profondo del petto! Forza, Ardi! Respira! Puoi farlo! Ehi, cos'hai da fissare? Questa è proprio la peggior cosa! Valdene, traditore! Non voglio vederti mai più! Come ha potuto mollarmi per uno stupido vampiro! Ok, ok, devo calmarmi! Ancora tu, pranker? Prendi questo! Ah! Mi hai fatto davvero male! Ardi, guarda fuori! Sono io! Lori! Dovrebbe essere una buona notizia! Ah, entra! Sono sicura che me ne pentirò! Oh, Ardi, poverina, è così triste! Tieni, ho trovato questo anello sul pavimento! Oh, Lori, non devi... Cosa? Ok, dammelo! Ma, 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 Ardi? Sto cercando di mantenere la calma! Guarda, hai scritto un messaggio d'amore con i proiettili! Io amo pranker! Ancora! Oh, no! Budino! Lo chiamavo sempre così! Oh, Lori, cosa c'è di sbagliato in me? Ehi, tu! Sbrigati, vieni qui! Sto morendo di fame! Vai a cercarmi del cibo! Buon appetito, amore mio! Oh, grazie! Idiota! Non sai che sono allergica all'argento! Ora avrò una cicatrice a causa tua! Oh, mi dispiace tanto, mio piccolo pipistrello! Non stai dimenticando qualcosa? Bravo! È giunto il momento di farmi una pedicure! Allora, cos'hai lì? Fammi vedere! Ho semplicemente dipinto l'amore della mia vita! È ardi? Certo che no! Occhi solo per te! Dobbiamo pensare a un piano! Ma cosa? Pensa, Lori, pensa! Attenzione! Affrettatevi ad acquistare i nostri cereali unicorno! Cosa? Io adoro i cereali unicorno! Vi porteranno la felicità che avete sempre sognato! Devo mangiarne un po'! Ehi, Lori, riprenditi! Aspetta un attimo! Sembra che siano i poteri dell'ipnosi dei vampiri! Guarda, Lori! Quel vampiro deve aver ipnotizzato Pranker! Ecco perché mi ha mollata! Ardi, sei un genio! Sì, lo so! Aspetta un secondo! Penso di sapere cosa fare! Immagina! Io mi precipiterò direttamente nella zona del vampiro e poi... Che delizioso frullato di sangue! Eccovi, piccioncini! Oh no! Per favore, risparmiaci! A sta la vista, tesoro! No! Oh, Lori, sei incredibile! Oh, il mio budino! Ardi, finalmente siamo tornati insieme! Allora, splendido, no? Beh, va bene! Mi dispiace per questo! Va bene, assaggiamo questo! Miam, 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 miam! Che odore terribile! Prepara le tue armi! Ci sono! Va bene, amica, è ora di muoversi! Yow! Seguimi! Va bene! Penso che dovrei prendere anche quello per ogni evenienza! Ok, ok, ok! Possiamo farcela! Kawabonga! Oh! Andiamo! Ora ci sei! E chi diavolo sei? Franca, prendila! Ah, che male! La mia testa! Lori! Sei finita, sanguisuga! Oh, l'anello! Dì addio alla tua vita nell'aldilà! Oh, non credo che lo farò! Oh, oh! Non deludermi adesso, piccolo amico! Franca, sbarazzati di lei! Oh! Franca, sono io! Hardy! Per favore, devi lasciarmi andare! Ah, ah, eccoti! Hardy? Oh no! Tutto tranne quello! Pranker! Fermo! È ora di prendere misure drastiche! Assaggia la mia bomba all'aglio! Cosa? Sta succedendo? Resisti, amica! Ti tireremo fuori di qui! Oh, che strano! Ehi, mi ricordo di questo guanto! Hardy! Mi vuoi sposare? Oh, budino! Certo che sì! Cosa? Dammelo subito! Hardy! Riesci a sentirmi? Devi svegliarti! Hardy! Sì, dovrebbe funzionare! Ferma, amica! Oh, certo! E comunque, come ti senti? Malissimo! Niente paura! Bat Boy è qui! Arrenditi, Hardy! O affronta il pugno della giustizia! Sei tu, Bat Boy! Non sono proprio dell'umore giusto! Sei una perdente, Hardy! Non potresti battermi nemmeno se ci provassi! Nina, Nina! Andiamo! Prova a colpirmi! Forza! Ah! Oh, il mio dente! Carino! Oh, budino! Mi manchi così tanto! Oh, va bene! Mi arrendo! Cosa le è successo? Oh, è una storia lunga e tragica! Hardy e Pranker stavano per unirsi in matrimonio! I love you! Oh, è così carino! Ma poi è comparsa quella malvagia vampira! Ha epnotizzato Pranker e lo ha costretto a eseguire i suoi ordini! Quindi Pranker ha abbandonato Hardy e... Beh, non riesce a superare il crepacuore! È la cosa più triste che abbia mai sentito! Ok, basta! Hardy, guarda! Che tragedia! Com'è potuto succedere questo? Va bene, ragazzi e ragazze! Ditemelo nei commenti! Dovrei smettere di combattere contro Hardy e aiutarla! Va bene, allora è deciso! Fatevi da parte, signore! Hardy, tieni duro! Oh, certo! Ok, sono rimasta ad ascoltarti per troppo tempo! Ho un'idea! Dammi solo un momento! Penso di averlo nascosto qui da qualche parte! Ah! Trovate! La tua tana è dentro casa mia! Seguitemi, signore! Ehi, se qualcuno di voi ricorda la password di Batboy, ce lo dica nei commenti, ok? Benvenuti nella mia umile dimora! Oh, questo posto è davvero carino! Sì, mi piace qui! Oh, non ci credo! È la tuta di Spiderboy! Esatto! Pow, pow, pow! E questa è di Ladybug! Sì, sono io! E anche Huggy Wuggy! Sì, davvero? Sono un uomo dai molti talenti! Oh, capisco! Oh, Lori, smettila! Siamo qui per salvare Pranker, ricordi! Oh, giusto, certo! Andiamo! Ok! Guarda! Il leggendario antidoto antivampiro! Ecco come sconfiggiamo quella terribile vampira! Oh, è così carino! Ehi, cosa fai? Questa è la nostra unica possibilità di vittoria! Bene, guarda qui! Wow, super! Ben, centro! E così la vampira sarà fuori combattimento! Ottima mira, Batboy! Allora siete pronte? Andiamo! Ok, finalmente ce l'abbiamo fatta! Questa è la fine, Sanguisuga! Oh, non farmi ridere! Oh, ma come hai fatto? Oh, oh! Siamo nei guai adesso! Pranker, attacca! Prendi! Oh, scusa! Batboy! No! Me la pagherai! Yeah-ha! Saresti meglio a scappare, sciocca ragazzina! Vai, Lori! No! Pensi ancora di avere una possibilità contro di me, eh? Sì! Oh, perché sono... Lori, l'ammazzo vampiri! Wow! Cattivo, Pranker! Lori, attenzione! Ehi! È l'antidoto! Devo metterci le mani sopra, costi quel che costi! Non così in fretta, signorina! Pensavi davvero che sarebbe stato così facile? Ma... Ma io... Oh! Batboy è svenuto! E Lori è stata catturata da Pranker! Ehi! Lasciami andare! Ok, ragazzi! Dovrei arrendermi o dovrei conto! Continuare a combattere! Immagino sia saggio sapere quando smettere! Congratulazioni! Hai vinto! Il male trionfa ancora una volta! Cosa? È argento? Cosa sta succedendo? Ardy? Budino, sei tornato! Oh, Ardy! Ti amo! Sì, sì! Sì, sì! Finalmente siete tornati insieme! Sì, insieme per sempre! Andiamocene, amore mio! Bello! Vengo con voi! Ricorda le mie parole, Ardy Win! Non è finito! Ciao a tutti! Balliamo! Cici wow! MC Kitty alla console! Oh, ecco la mia cena deliziosa! Oh, missione interrotta! Questa festa è fantastica! Sì, sono d'accordo! Dobbiamo commemorarla! Oh, cavolo! I drink qui sono deliziosi! Deciso! Oh, hanno messo la mia canzone preferita! Aspettate, ragazze! Dov'è Ardy? Oh, non ne ho idea! Oh no, tutto tranne questo! Guardate! Povera Ardy! Cosa le è successo? Lo scopriremo! Manu, controlla il battito! Beh, di cosa si tratta? Non spaventarci così! Oh, oh! Le cose non stanno andando bene! Oh, non mi sento molto bene! Rimettiti insieme Ladybug! Oh, non esiste! Ci sei tu dietro a tutto questo! Lo so, abbiamo bisogno di un parere professionale! Sì! Ok, signore e signori, ecco a voi il più grande detective! L'incubo dei criminali di Wow City! Lui! Il detective Tyler! Chi è quel ragazzo? Bene, ragazze, qual è il problema? Era in piedi solo un momento fa, ma ora... Ok, ragazze, state calme! Mi prenderò io cura di tutto! Allora, posso? Quello che abbiamo qui è il corpo di questa povera sfortunata vittima! E questo significa che serve un selfie! Cosa? Che idiota! Attenzione! Ho trovato un indizio vitale! Queste tracce ci condurranno dritti al colpevole! Oh, strano! Siamo tornati al punto di partenza! Oh, andiamo! Quelle sono le tue fronte! Cosa davvero? Oh, davvero! Non arriveremo da nessuna parte di questo passo! Ok, ci sei tu dietro a tutto questo, giusto? Devi prima ascoltare la mia storia! Penso che Hardy stesse ballando e poi si sia colpita con la sua stessa mazza! Interessante! Assolutamente no! Non è andata così! Hardy stava ballando e poi è stata colpita da un fulmine! Bang! Ehi, detective! Mi stai ascoltando? Cosa ne pensate della mia idea? Beh, dai! È senza speranza! E se fosse andata così? Ciao, Manu! Oh, non mi meritavo questo! No! No? L'unica opzione rimasta è la vampira! Squisita! Oh, aspettate! Stavo solo... Sembra che abbiamo la nostra sospettata proprio qui! Aspettate un attimo! Quelli sono segni di morsi! Bene, gente! Ho bisogno del vostro aiuto! Chi pensate che ci sia veramente dietro la morte di Hardy? Ditemelo nei commenti! Davvero? La vampira? Grazie per il suggerimento! Mani in alto, sanguisuga! Prendiamo un campione di sangue! Adesso al laboratorio! Va bene, facciamolo! Lo scopriremo tra un attimo! Raffreddiamo la fiala! Sì, ora ci siamo! È giunto il momento della verità! Oh sì, riceverò il premio come detective dell'anno! Vediamo! Pomodoro al cento per cento! E mi piacciono gli hamburger con molto ketchup, allora? Oh, è un disastro! Dammelo! Sei stata fortunata questa volta! Devono esserci altri indizi! È un segno lasciato da uno yo-yo? Chi ha visto portarne uno? Non intendi dire che... Oh, ma non è mio! Tu! No, non ho fatto niente! Seguimi, signorina! So che stai nascondendo qualcosa! Credimi, tu non vuoi interferire con le mie indagini! Ti pentiresti profondamente di averlo fatto, Ladybug! Oh, un piccolo Pikachu! Ehi, non siamo qui per giocare! Ammettilo! Hai ucciso Hardy, vero? No, non l'ho fatto! Non è così! Stavo semplicemente ballando, ma poi... Si è presentato lui! Ho una cotta segreta per Chat Noir! È venuto da me e praticamente sono svenuta! Ero così felice di incontrarlo! Ehi, Ladybug! Hai dimenticato la borsa? Oh! Oh! Hardy, vattene da qui! Ah! Mi dispiace, non volevo interrompere! Beh, ciao! E le cose sono andate proprio così, lo giuro! Bene, ti credo! Adesso seguitemi tutte! Chi potrebbe trarre beneficio dalla morte di Hardy? Devo andare in fondo alla cosa! Bingo! Non posso credere di non averci pensato prima! L'assassino deve aver lasciato le sue impronte da queste parti! Aha! Visto! L'avevo detto! Eccole! Proprio qui! Bene, ragazze! Devo controllare le vostre impronte digitali! Ladybug, sei la prima! Non essere timida non hai nulla da temere, vero? Oh, fin qui tutto bene! Ora... Tocca a te! Oh, certo, signore! Oh! Sembra che ci manchi un'altra... Mano! Andiamo, amico! Aha! Ti ho beccato! Fermo lì! Te ne andrai per molto tempo, piccolo cattivo! Ma prima ho bisogno che tu mi dica perché hai fatto questo! Hai dieci secondi, amico! Parla! Mi dispiace, detective, ma non può aver fatto una cosa del genere! Ecco, ho scattato alcune foto durante la festa! So esattamente com'è andato! Beh, sei fantastico, Mano! Oh sì! Mostraci cosa sai fare! Cicciwow! Sembra che sia giunto il momento di una sfida di ballo! E l'onda! Woohoo! È deciso! Mano è la stella di questa pista da ballo! È chiaro! Mano è innocente! Beh, sì, ha senso! Sei libero di andare! È ora di andare avanti! Sono l'unico preoccupato da quel terrificante graffio! Oh sì, è piuttosto brutto! Ma chi ha degli artigli di queste dimensioni? No, neanche queste! No! Oh, le nostre manicure si abbinano perfettamente! Amici del cuore! Ok, dove eravamo rimasti? Kitty, perché non ci mostri le tue unghie? Oh! No! Beh, non te lo sto chiedendo! Assolutamente no! Ma sono innocente! Vedremo! Muoviti! Ok, quindi... Ammettilo! Hai ucciso Hardy a sangue freddo, eh? Lasciami spiegare, per favore! Alla festa ho notato una farfalla davvero carina! E non sono riuscita a trattenermi! Dovevo prenderla! Noi predatori abbiamo un istinto potente! Comunque la farfalla si è posata sulla spalla di Hardy! Mi sono avventata e poi... Credo di aver graffiato accidentalmente Hardy! Non posso credere che tu l'abbia fatto! Va bene, gattina, vieni qui! Oh, mi dispiace, non volevo! Hardy non mi ha ascoltato! Mi ha gettato in un bidone della spezzatura! È stato così imbarazzante! Lo vedi adesso? Non ho fatto niente! Oh, Detective Tyler! Oh, è tutto! Io mi arrendo! Aspetta un secondo! Cosa abbiamo qui? Ehi, mi vedete? E ragazze, guardate! C'è Hardy! E c'è il Detective Tyler! Ma aspetta! È Bat Boy! Dai, dobbiamo sbrigarci! Ehi, signore! Abbiamo trovato qualcuno! Deve esserlo! Dove sono? Cosa sta succedendo? Lasciatemi andare! Bene, abbiamo il nostro principale sospettato! Dovrai lavorare davvero sodo per riabilitare il tuo nome! Non ho fatto del male a Hardy! Voglio dire, avrei voluto, ma non ho potuto, lo giuro! Sono venuto alla festa prima ancora che iniziasse! Avevo pianificato di tendere una trappola e di colpire quella cattiva! Oh, vostro onore! Colpevole! Assolutamente colpevole! Abbiamo il nostro colpevole! Il tuo posto è dietro le sbarre! Per favore, state commettendo un errore! Oh, che le succede? Oh, sono così affamato! E quei panini sembrano davvero appetitosi! Oh, va bene, ci vorrà solo un momento! Mmm, delizioso! Oh! È innocente! Sta dicendo la verità? Beh, a dire il vero, sì! Non posso credere che continui a succedere! Non colpevole! Oh, beh, ok! Allora, posso andare adesso? Grazie! Sai, penso ancora che tu l'abbia uccisa! Ehi, perché mi guardate in quel modo? Non ho fatto niente! Aspettate un attimo! Che ne dite del Detective Tyler in persona? Oh, cosa? Ti abbiamo preso! Non potete farmi questo! Per favore, vi prego, risparmiatemi! È ora di votare il sacco! Dov'eri quando Hardy è morta? E non provare a mentire! No, non fatelo! Vi dirò tutto! Allora, mi sono svegliato presto la mattina e ho iniziato la giornata nel solito modo con un po' di esercizio leggero e una sala colazione Sapete, le banane sono il mio piatto preferito deliziose e nutrienti! Dopodiché ho esercitato le mie abilità di tiro 10 su 10 Sono bravo, no? Poi all'improvviso ho notato un'altra deliziosa banana Ma proprio mentre stavo per dare un morso a quel delizioso dolcetto voi ragazze mi avete chiamato e poi, beh, sono arrivato qui Ha molto senso Ma non abbiamo ancora trovato l'assassino Lo so, è stata la banana Ora ascoltiamo la storia di questa ragazza Oh, una banana è il piatto perfetto per la colazione Cavolo, sono davvero bravissimo 10 su 10 Lol, lol, lol Deliziosa Ehi, cosa c'è sull'albero? Incredibile! Non posso credere a quello che sto sentendo È colpevole, caso chiuso Ma questo significa che Ardy è ancora viva Dobbiamo svegliarla Carica! Oh, non ha funzionato! Lo vedo Oh, dobbiamo chiamare Pranker Pronto? Non possiamo fare più niente Maledetta vita! Ehi, ragazzi Perché state piangendo? Va bene, detective Togliti dai piedi Ok Sì, scusa Per favore, zucchina mia Svegliati Oh, è così carino Ehi, smettetela di fissare Dove sono? E perché mi fa così male la testa? Sono felice che ti senti meglio Ehi, cosa avete da guardare? Budino, mi sei mancato tanto Oh, adoro il liatto fine Oh, per favore, scusami Bene, amore, andiamo Oh, sì Ci sono ancora tanti crimini da compiere Hai un gallaro per una ragazza bisognosa Sparisci mendicante Come vuoi, cattiva Ehi, attenta, stupida Metti le mani dove posso vederle Questa è una rapina Ok Prendi tutto quello che vuoi Ma non fare niente di avventato Ehi, se io... Ce l'abbiamo fatta, Budino Oh, che cattivi Siamo i cattivi più malvagi Oh, oh, certo che lo siamo Hai visto zucchina mia? Chi c'è? Puoi guardare tu, Ardy? Cosa? Ma come hai fatto? Ciao, avete un po' di soldi? Oh, voglio dire Potete per favore essere i miei genitori Genitori? Oh no, non esiste Ne siete sicuri? Mi farebbe davvero comodo Di avere una nuova famiglia Dico sul serio Potremmo divertirci tanto insieme Va bene, tesoro Non agitarti così tanto Chi c'è? Oh, sono le consegne Un po' di sangue È proprio ciò di cui ho bisogno In questo momento Oh, sono vuote Non va affatto bene Oh, non abbiamo nemmeno Le ciambelle Niente Niente neanche qui Oh, mi ero completamente dimenticata Delle mie allergie Cosa farò adesso? Oh, so cosa Come stai oggi, tesoro? Ho solo un po' di fame Non pensarci nemmeno Non puoi mordere i tuoi genitori Ma papà Considerati a dieta Non oggi Beh, questa è l'unica via d'uscita Ci vediamo, tesoro Attenzioooon Quello è Pranker? Sì, carne e ossa Finalmente abbiamo messo le mani su di lui Sembra che la cena sia servita Grazie per l'aiuto, tesoro Di nulla, papà Stai benissimo, come sempre Cosa sta succedendo? April, sei tu? Certo che sì, mamma Ho un'idea Di cheese Cosa c'è che non va, mamma? Va tutto bene Il Pranker, guarda La nostra bambina non può essere ripresa dalla telecamera Questo è fantastico Oh, budino, non perdiamo tempo April, d'ora in poi entrerai a far parte dell'azienda di famiglia Commetteremo qualche crimine Bene, vedi quel centro commerciale? Vai, mettiti al lavoro State per essere derubati dalla straordinaria April Sembra che abbia vinto il jackpot È come un sogno diventato realtà Guarda tutta questa roba Colpa mia Beh, chissene Come criminale posso fare tutto quello che voglio Questa è una rapina Non durante il mio turno Cosa sta succedendo? Chi sta facendo questo? Non lascerò che accada Polizia! C'è una rapina in corso Oh, guardatevi Siete deliziosi Che abbiamo qui? Ciao, Teddy Adesso vieni con me Ah! È ora di scappare Era solo un allarme Niente di che Oh, ecco ti tesoro Mostraci il tuo bottino Sono giocattoli Dove sono i contanti? Ci servono Oh, questo è un disastro Bene, la polizia è qui Eccovi Non ho fatto niente, davvero Sembrate piuttosto sospetti Cosa avete lì? Dovresti andare Non vorrai avere a che fare Con i più grandi cattivi della città Davvero Sembrate più dei clown Mostriamogli cosa sappiamo fare, Frank Non dirci che non ti avevamo avvertito Vai, Hardy Certo, Budino Ora mani in alto E dacci tutta la tua roba Questo è tutto quello che ho Me l'abbiamo fatta vedere Una rapina ben riuscita Sicuramente un dolce sapore La nostra bambina Buon compleanno Ehi, calmatevi voi due Adesso ci sei Voi benefattori Non avete alcuna possibilità Ci vorrà solo un momento Oh, ti piacerebbe? Tutto bene, Budino? Sei infinito, pranker Ragazze Sono tornato Ma non sono nemmeno riuscita a esprimere il desiderio No, questa volta hai davvero combinato un pasticcio, Batboy La nostra festa è rovinata Non lo è, tesoro È ancora il tuo compleanno Mi dispiace tanto, April La mamma ha bisogno di prenderlo in prestito Lasciami andare, mostro alato Ehi, chi ha spento le luci? Non avresti dovuto metterti contro di me Sei pronta per il secondo round, bambola? Ehi, è io? È la mia festa! Non possiamo divertirci un po'? Certo, tesoro Oh, ecco il tuo regalo Intendi lui? Beh, sembra proprio appetitoso Qualcuno mi aiuti? Ti sta bene, stupido pipistrello Ehi, beh, immagino che ci incontreremo di nuovo un giorno Sei stata bravissima, April La mamma è molto orgogliosa di te Oh, dovrebbe funzionare Oh, eccoti! Benvenuta! Aspetta, torna tra un po' Hai fatto un ottimo lavoro, Ardy Anche tu sei stato fantastico, Budino Ehi, non puoi mangiarli! Sputali! Piantina cattiva! Oh, l'hai voluta tu! Prendi questo, mostro! Ora tocca a me Vediamo se ti piace Oh, oh! Budino, aiuto! Sono qui, zucchina! Non resisti! Va bene, sono tornata Mamma! Cos'hai fatto? Ridami i miei genitori! Non preoccupatevi, vi salverò! Oh, grazie a Dio state bene! Le persone non sono cibo, capito? Puoi mangiare solo insetti e vermi! Capito? Brava piantina! Oh, guarda! Un pipistrello! Prendiamolo! Sì! Centro! Ah, che male! Oh, me la pagherete! Mi piacerebbe vederti provare! Sì, calmati, stupida! Diamogli una lezione! Adesso sei una perdente certificata! Mamma! Cosa c'è che non va, tesoro? Sono una perdente! I miei compagni di classe hanno detto così! Gli farò rimangiare le loro parole! No, no! La nostra ragazza dovrebbe farlo da sola! Oh, bella idea! Quanto ci stiamo divertendo adesso! Aiuto! Colpiscilo dritto sul naso! È una tecnica molto semplice! Basta stringere il pugno e oscillare! Così? È davvero spaventoso, mamma! Oh, ok! Facciamo così! Oh, pranker! Oh, sono qui! Tagli un bel gancio destro! Proprio così! No! Puoi farcela, tesoro! No! Oh, sì? I pipistrelli non sono disgustosi? Ne sei sicuro? Questo ragazzo... Vai e dagli una lezione! Non parlare male dei pipistrelli in mia presenza! Wow! Ehi, amico, stai bene? Non mancare di rispetto ai pipistrelli! Ho capito! Non credo! Ah, ti sta bene questo look, amico! Eh? Cos'hai detto? I perdenti come te non dovrebbero essere cattivi con gli altri! Forza! Muoviamoci! Sembra che la via sia libera! Cosa facciamo? Ruberemo questa macchina! Oh! Proviamo un approccio diverso! Ehi, che ti succede? Mamma, stai bene? Sì, sto benissimo! Ok, aspettami qui! Proprio così! Ora apri la portiera, tesoro! Stanno arrivando gli sbirri! Oh, ma come faccio? È il secondo pulsante a sinistra! Forza, April! Concentrati! Intendi quello? Oh-oh! Ha funzionato! Giuro che non volevo farlo, mamma! Ah, cosa devo fare? Immagino che non sia una persona che ama le auto! Mi dispiace tanto! Oh, va tutto bene, tesoro! Eccoti qua, succhia sangue! Ci siamo adesso! Sto venendo a prenderti! Bene, April! Sei pronta? Allora prendi! Ah, guarda mamma! L'ho presa! Beh, non perdiamo altro tempo! Ciao, ciao, sanguissuga! Oh, è scappata di nuovo! Bene, è ora del piano B! Sì, vediamo se ti piace il gusto dell'argento! Oh! È ora del piano C! Preparati a dire addio alla tua non morte! Oh, cavolo! Questa volta ho davvero fatto un casino! Ma non è ancora finita! Assaggia il mio aglio, demone! Adesso tocca a me, mamma! Oggi non è proprio la mia giornata! E chi diavolo sei? Non sopporto i cacciatori di vampiri! Scusa, Fezzato! Oh, non preoccuparti, mamma! Non ti permetterò di battermi, Batboy! Dobbiamo salvare tuo padre! Arrivando, puttino! Fattene! Non toccarla mai più, pipistrello cattivo! Andiamo, Budino! Oggi c'è una festa! Ehi, non dimenticatevi di me! Gliel'ho fatta vedere! Sì, papà! Sapete una cosa, voi due? Ho un'idea! Non vi permetterò più di invecchiare! Budino, sei davvero tu! Bene, sei pronto per altre azioni oscure! E io? Oh, poverino! Forza, sistemiamo anche te! Ti sei rimesso in forma, eh? Ehi, smettila di spingermi! Ciao!